Buongiorno, io sono Claudia De Vitis e lavoro per il settore metodologico dell'ISTAT per la DCME. In questa presentazione illustrerò brevemente i contenuti del poster che riporta l'attività del progetto Trusted Smart Survey, aspetti architetturali e metodologici. Questo poster, come anche il progetto, è stato realizzato con la partecipazione di numerosi colleghi dell'ISTAT che fanno parte di un gruppo di lavoro che segue questo progetto. Il progetto Smart Survey è un progetto che l'ISTAT sta seguendo da circa due anni e che riguarda le Smart Survey, che sono delle indagini statistiche che sono progettate per raccogliere informazioni utilizzando dispositivi smart, quali smartphone, tablet, wearable e così via. Questi dispositivi danno accesso a funzionalità di raccolta dati sia in modo passivo, cioè raccolgono dati da sensori, sia in modo attivo tramite questionari o diari web. Questi dispositivi, infatti, hanno sempre uno o più sensori che raccolgono dei dati o per la propria funzionalità oppure forniscono l'accesso ai dati dei propri sensori per altre applicazioni e sono queste appunto le caratteristiche che vengono sfruttate per condurre indagini statistiche utilizzando questi device. Inoltre, le Trusted Smart Survey pongono particolare attenzione alla tutela della riservatezza e al rapporto di fiducia tra l'ufficio di statistica che conduce alla rilevazione, i rispondenti ed eventuali altre terze parti. Ovviamente, la questione della privacy e della tutela della riservatezza di questi dati personali che il rispondente fornisce o dà il consenso a fornire agli istituti di statistica è un punto cruciale di tutta questa attività. È importante sottolineare che le Smart Survey non escludono che parte della rilevazione venga condotta in modo tradizionale su diversi sottoinsiemi di rispondenti, dando quindi luogo a un'indagine a tecnica mista. In particolare, l'ISTAT sta partecipando a un ESNET europeo, l'ESNET Smart Survey, che sta svolgendo un lavoro preparatorio per creare una piattaforma europea per condividere e riutilizzare delle soluzioni e dei componenti per le Smart Survey. In particolare, l'ISTAT coordina il Work Package 3, che lavora proprio alla caratterizzazione della piattaforma, attraverso due task principali. Il primo, incaricato di definire l'architettura di riferimento per le Trusted Smart Survey attraverso la definizione del quadro metodologico, della concettualizzazione e sviluppo delle caratteristiche e dei requisiti della piattaforma. Tale piattaforma sarà quindi sviluppata appunto a livello europeo, implementerà una serie di funzioni comuni che sono configurabili dall'utente e possono essere utilizzate per creare istanze di Trusted Smart Survey. La seconda attività del Work Package è lo sviluppo di elementi prototipali e modulari della piattaforma attraverso dei proof of concept relativi a importanti aspetti del framework. In particolare, l'ISTAT è coinvolto nel proof of concept architetturale e di machine learning. Vediamo quali sono gli ambiti in cui il framework conduce la sua attività. Allora, il framework concettuale è stato per il momento delineato in una versione preliminare e gli ambiti sono la metodologia per le Smart Survey guidato dall'ISTAT, l'infrastruttura tecnologica, l'integrazione nei framework architetturali esistenti, anche qui l'ISTAT è coinvolto in prima persona, la tutela della privacy e della trasparenza, gli schemi di incentivi al rispondente, anche questo è un aspetto importante perché in queste indagini è importante anche dare un feedback e che il rispondente sia motivato a partecipare. Infine, un aspetto molto rilevante, la creazione del trattamento dei metadati. Dunque, per concludere questa breve presentazione, mostrerò quali sono i tre focus contenuti nel poster. Il primo riguarda le metodologie per le Smart Survey e quindi si tratta di approfondire quali sono le tematiche metodologiche che una Smart Survey introduce rispetto alle indagini tradizionali. In particolare, il tutto è determinato dall'uso di questi dati da sensori che sono dati non strutturati, di dimensione molto ampia e che quindi necessitano di particolari procedure di trattamento, di processamento e di anche trattamento di eventuali forme di errore. E quindi abbiamo un focus metodologico. Poi abbiamo un focus sull'architettura e sull'integrazione in framework esistenti. Il gruppo che si occupa di questa attività ha delineato la struttura dell'architettura per la piattaforma delle Smart Survey, in particolare ha disegnato il business layer, l'application layer e ha formulato alcuni scenari operativi, operazionali per la realizzazione di questa piattaforma. L'ultimo focus riguarda uno dei proof of concept su cui l'Istat è impegnato e che sta volgendo a conclusione la sua attività che è relativo alla creazione di un componente generalizzato per il machine learning. Generalizzato significa che non dipenda dal particolare contesto di indagine ma sia applicabile in diverse situazioni a partire da dati da sensore, in particolare qui si sono presi due dataset di dati da accelerometro e si è costruito questo componente generalizzato che quindi con un approccio bottom-up elabori i dati da accelerometro per predire in un caso l'attività fisica condotta dalle persone e nel secondo caso il mezzo di trasporto utilizzato. E questo è un lavoro molto interessante. Per concludere, questo progetto è in fase conclusiva, si concluderà a metà del 2022 con la produzione di un framework per la piattaforma europea in cui saranno descritti i requisiti funzionali e non funzionali per la creazione di questa piattaforma. Vi ringrazio.